Per il terzo anno consecutivo l'Istituto Catullo di Belluno è il referente provinciale del premio Scuola Digitale, un progetto promosso a livello nazionale dal MIUR e finalizzato a favorire il protagonismo delle scuole italiane e degli studenti nel settore dell'innovazione didattica e digitale, che in questo 2021 ha focalizzato l'attenzione proprio sui modelli innovativi e le buone pratiche di didattica digitale integrata. Premio che si rivolge a tutte le scuole della provincia di Belluno, in particolare hanno partecipato sette scuole del primo ciclo e tre scuole del secondo ciclo. Credo che sia un premio particolarmente attuale in questo periodo di pandemia, in quanto le scuole tutte quante hanno sperimentato come si può lavorare con le nuove tecnologie, però in maniera diversa, assolutamente molto più attiva, propositiva, creativa. Differenti le azioni svolte. Sono stati organizzati dal nostro istituto numerosi corsi online per gli insegnanti, in quanto era previsto che i docenti presentassero un video che parlava del progetto. Questi corsi curavano sia l'aspetto tecnico che quello della narrazione proprio relativa al video. Inoltre, per cercare di aiutare gli alunni nell'esposizione, si sono organizzati altrettanti corsi. Una progettualità che è testimone delle sfide che coinvolgono la scuola nel contesto difficile di pandemia. La scuola è sempre in prima fila per quello che riguarda i cambiamenti. Abbiamo avuto grossi cambiamenti nella didattica, nel modo di fare in questo anno particolarmente. Quindi questo è proprio un cercare di dare delle novità, delle idee che possano essere anche di esempio per le altre scuole. Le scuole vincitrici del primo premio, sia per il primo che per il secondo ciclo, riceveranno un riconoscimento di 1000 euro ciascuna e potranno accedere alla fase regionale. Le premiazioni si svolgeranno online il 20 aprile alle ore 10 con una diretta YouTube fruibile dal sito dell'Istituto. Un approfondimento su tale iniziativa andrà in onda su Telebelluno, mercoledì 14 aprile alle ore 21 e 10.